amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati un canale come il vaso di pandora che sempre alla scoperta di nuove risorse risorse umane e che ha come obiettivo quello di liberare l'informazione non poteva non porre la sua attenzione su un'iniziativa che si chiama festival della cultura liberata e di fatti eccoci qui a parlarne con i due ideatori il festival che si terrà a conegliano veneto dal 16 al 18 giugno conegliano veneto in provincia di treviso ecco qui i due ideatori do il benvenuto ad alberto gava presidente dell'associazione nova vita buongiorno a tutti grazie carlo e benvenuto a gaetan nasato tangier direttore artistico del festival e direttore d'orchestra benvenuto a tutti e grazie allora festival della cultura liberata potrebbe essere un altro festival è l'alternativa un festival dell'economia che si tiene in questi giorni ma qui i propositi sono diversi quello è un festival diciamo mainstream a questo qui invece a si muove su direttive completamente direi completamente diverse senti alberto come come nasce questo festival allora questo questo festival nasce da un gruppo di ragazzi che siamo siamo andati presso diciamo un altro festival ancora che ci ha dato un po l'ispirazione e abbiamo pensato che ci fosse bisogno di di proporre qualcosa di nuovo qualcosa che non fosse una semplice conferenza ma fosse qualcosa di più grande che andasse a coinvolgere tutta la comunità perché alla fine l'italia è composta diciamo la sua radice deriva dai comuni che ha e bisogna secondo me tornare a questa radice profonda che all'italia e quindi ritornare a incentivare i centri storici e allo stesso tempo dare una prospettiva culturale a 360 gradi e proprio per questo il festival si contraddistinguerà diciamo perché non ci saranno solamente conferenze ma ci saranno conferenze alternate da spettacoli teatrali ma anche eventi musicali e diciamo che un'altra grande innovazione è che il gruppo che ha reso possibile tutto questo siamo tutti i ragazzi under 40 e che secondo me è una bella cosa perché molto spesso mi sento dire dove sono i giovani giovani ci sono e stanno facendo qualcosa di importante e difatti guarda mi stavo proprio domandando noi abbiamo avuto l'evento a verona dal vivo del vaso di pandora c'erano anche alcuni ragazzini molto giovani e tu parlavi è un gruppo di ragazzi under 30 ma nel caso tuo sei ampiamente under 30 sei ancora scusami under 40 sei lontanissimo dalla dai 40 perché tu sei quanti anni hai 27 25 25 addirittura te ne avevo dati due di più addirittura 25 quindi sei lontanissimo dai 40 e questa e questa è molto molto incoraggiante perché iniziative così da giovani di 25 anni fa capire e ci dà il segnale che c'è ancora speranza ce la possiamo ce la possiamo fare senti gaitana qual è il significato di del nome del festival cultura liberata perché questo è questo nome è stato un nome che è stato per certi aspetti un po travagliato nel senso che inizialmente come diceva appunto alberto eravamo riferiti a un altro festival e poi ci siamo connotati in maniera autonoma e liberata perché è un po un'utopia oltre che una volontà forte che il gruppo condivide il fatto che la cultura riesca a non essere incatenata a nessun tipo di potere politico economico sociale anche se ripeto è un'utopia cioè 8 post fuori dal fuori dal luogo fuori dallo spazio perché viviamo in una società che ha dei rapporti dei legami delle funzioni quindi è chiaro che come tutte le cose dovendolo appunto anche finanziare il festival si passa attraverso le persone le idee le correnti e di conseguenza abbiamo cercato di portare il concetto di libertà la volontà è quello che nel futuro si riesca a essere totalmente indipendenti da qualsiasi tipo di visione nella realtà cerchiamo di portare tutti i dibattiti contraddittori all'interno dei degli incontri che faremo a livello più intellettuale che non concreto quindi uno scontro di idee di idee il più possibile scevre da addentellati sociali reali e quindi culturali che che possono essere legati a una soggettività connotata da volontà decisioni scelte che poi hanno inevitabilmente una connotazione politica perché viviamo siamo in crisi nella polis viviamo di politica non possiamo prescinderne è chiaro che più è estratto in una certa maniera il dibattito e meno rientrano le emozioni proprie che scadono poi nel populismo o nella demagogia allo stesso tempo però sono degli individui che si incontrano e che comunque portano la loro esperienza al più alto livello di pensiero sì senti e alberto parlava un punto gaetana di della polis no quindi sarà un festival che si tiene proprio nel centro nel cuore di conegliano quindi un recupero della 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 centralità del comune insomma no alla faccia dei centri commerciali no esatto esatto l'obiettivo forse anche per il mio background imprenditoriale è proprio questo cioè purtroppo ci sono tanti centri come quello di conegliano che si sono svuotati negli ultimi 10 20 anni proprio a causa di questi centri commerciali messi nelle periferie che hanno portato la gente a non frequentare più i centri storici conegliano da pochi anni fa parte dell'unesco per via delle colline ed è importantissimo che i centri storici e non solo quello di conegliano tornino ad essere centrali proprio per per dare per dare vitalità per permettere che i turisti che vengano a osservare quello che è il paese col più grande patrimonio al mondo riesco ad oprire un reale servizio e quindi uno dei nostri intenti è proprio questo e grazie al comune di conegliano riusciremo a fare questo questo evento proprio nella piazza centrale che si chiama piazza cima e durante le conferenze utilizzeremo diciamo i le varie sale del centro storico che sono tutte attorno alla alla piazza alla piazza esatto e e poi il chiostro di san francesco che è sopra la piazza e che è un altro diciamo dei monumenti simbolo simbolo della città quindi senti e volevo volevo chiederti una mia curiosità cosa cosa che vi differenzia dagli altri festival c'è un festival molto noto no anche delle dell'economia a trento vi ponete in maniera diversa una cosa vi differenzia ci differenzia la volontà il più possibile di riuscire a fare cultura nel vero senso della parola la cultura deve essere qualcosa che porti al pensiero critico e che quindi faccia anche sorgere di dubbi alle persone e questo sarà uno dei nostri primi obiettivi e proprio per questo abbiamo la volontà di portare più dibattiti possibili su visioni diverse di creare in pratica creare il confronto quindi ecco esatto che secondo me è quello che molto spesso manca soprattutto a livello di mainstream è il confronto che il mainstream rifiuta rifiuta e d'altra parte lo capiamo nella loro logica voglio dire è nella loro logica chi glielo fa fare esatto esatto corretto e poi essendo giovani abbiamo voluto dare un po di triplantezza all'evento per cui non sarà il classico format dove ci sono degli ospiti che parlano e il pubblico che che subisce ma bensì ci saranno dei format ad esempio il martirio ok che altri format che che prevedono ad esempio l'estrazione spiegami un attimo il martirio perché mi ha tirato l'attenzione non è un termine bene augurante no no allora il martirio è uno dei tanti format che abbiamo che abbiamo pensato come che vadano un po a stimolare a rendere diciamo come si può dire a creare quello che è una sorta di coinvolgimento del pubblico ok il martirio prevede ad esempio il lo svisceramento diciamo di quello che è la vita di una persona quindi il suo martirio durante la vita quindi la sua esperienza di vita oppure ad esempio un altro format che andremo a fare è quello di chiama miscelanea quindi di mettere all'interno di una tecca delle domande che poi verranno estratte a sorte oppure ci saranno altre modalità che prevedono che sia direttamente il pubblico a fare le domande fin dall'inizio e quindi sì insomma abbiamo cercato di creare stimoli e poi soprattutto il fatto che come dicevo prima non ci sarà solamente il diciamo delle conferenze ma ci saranno ci sarà la cultura 360 gradi quindi artisti teatrali e musicisti musicisti so che suonerà anche gaitan tra l'altro con con una è un'orchestra quella con cui suonerai un gruppo ristretto questa in questa edizione qui suonerò in duo con un altro pianista un amico a quattro pianoforte quattro mani e la prima sera a chiusura della prima sera con un baritono faremo repertorio literistico tardoromantico quindi il repertorio italiano tedesco francese in realtà da romanticismo senti gaitan come sono stati scelti gli ospiti per questo festival è stato un lungo travaglio in realtà perché proprio per l'idea di voler confrontare delle dei poli diversi abbiamo scelto in gruppo insieme in base alle inclinazioni e le conoscenze io una formazione più filosofico teologica alberto una formazione filosofico politica all'interno abbiamo una sociologa che lavora con noi una web social media marketing quindi ci sono diverse figure che hanno dei tagli intellettuali profili diversi con interessi anche diversi e ci siamo confrontati riguardo a determinate tematiche di avere proprio il più possibile degli opposti che si incontrano ovviamente quando poi abbiamo contattato gli ospiti non abbiamo avuto risposta da tutti quindi in alcuni casi ci siamo dovuti accontentare di trovare anche a volte delle tematiche molto specifiche il dettaglio di contraddittorio anche all'interno di ospiti che hanno delle visioni non completamente opposte ma più vicine o più simili ci siamo dovuti adattare anche alla risposta che abbiamo avuto proprio perché è la prima edizione quindi non sempre è stato considerato come festival non da tutti gli ospiti invitati è perché ricordiamo che la prima la prima edizione quindi avete avuto anche dei diciamo dei rifiuti immagino che siano venuti dal mainstream perché perché ovviamente voi in questo senso ci avete ci avete provato in alcuni casi magari non vi è andato bene ma in altri in altri no e ripetiamo il concetto che insomma li capiamo dal loro dal loro punto di vista senti alberto che gli editori che funzioni hanno e gli editori hanno diciamo un volo centrale infatti come dicevo prima non all'inizio non facciamo un semplice evento dove invitiamo persone una tantum ma abbiamo voluto creare quello che è un festival proprio per dare aiutare anche chi crea cultura e chi crea cultura di una certa qualità e questi sono gli editori indipendenti che che nonostante tutto nonostante le grosse difficoltà continuano a curare dei testi che che non siano semplicemente diciamo privoli e quindi di bassa qualità ma vadano proprio prima di tutto prima di pensare in termini economici economici vadano a curare quello che sono le argomentazioni che portano le varie persone e proprio per questo in piazza ci sarà per tutta la tre giorni esposti questi vari editori indipendenti alcuni sono sono molto famosi mi viene in mente tra i vari di dao che a nostro parere ha fatto un ottimo un ottimo lavoro in questi anni poi comunque sul sito c'è l'elenco di tutti gli editori indipendenti che che aderiscono a questa iniziativa senti che che tematiche affrontate affrontano i relatori nei confronti nelle nelle conferenze con le tematiche principali quindi economia politica sì l'economia politica l'abbiamo declinata in vari rami ci sarà un tema molto interessante che sarà quello dell'antropologia economica che è sempre più importante soprattutto vediamo con l'avanzare di un sistema sempre più tecnocratico e con l'avanzare dell'intelligenza artificiale e ci sarà una bellissima discussione su che cos'è la felicità perché molto spesso l'economia è vista come la scienza infelice e quindi capire a livello antropologico che cos'è la felicità e abbiamo abbiamo creato questo dibattito di diciamo di discussione tra scienza e fede su che cos'è la felicità e poi altri altri campi che d'indagine saranno diciamo riprendendo quello che è un po il libro di della subop l'economia della sorveglianza andremo a parlare di tecnocrazia e poi ci saranno ci saranno variati altri temi toccheremo anche il tema ecologico non da un solo punto di vista ma da più punti di vista e ovviamente uno dei diciamo degli argomenti cardine sarà la geoeconomia e tra gli altri ci sarà demonstra in esploros il cui moderatore sarai tu carlo quindi la geoeconomia avrà un ruolo centrale ecco sì le le tematiche gli spunti che mi hai che hai accennato adesso sono sono effettivamente molto molto interessanti senti gaitan che messaggio volete portare voi con con questo festival vogliamo innanzitutto avvicinare tutte le fasce della popolazione al pensiero critico come si diceva in maniera libera e cercando quest'anno ci siamo concentrati sull'aspetto economico e quindi portando l'economia e far capire che non è solo finanza non è solo una materia azienda aziendale greta di fatta di numeri di calcoli di entrate di uscite quant'altro ma che è una materia che va a impregnare la vita di ciascuno ci sono anche delle tematiche scolastiche o che riguardano l'educazione per esempio tra i vari ospiti che avremo e si parlerà di come la tecnologia ha influenzato il modo di apprendere nella scuola superiore una scuola elementare in tutti i gradi di scuola o come anche il più grande capitale rimanga la scuola come fase di apprendimento e quindi anche una metaforizzazione del tema economico che va a sciogliersi in tutti gli ambiti del sapere esistenziale e quindi ha una forma di economia sapienziale e declinata a partire dalla prima conferenza che sarà la definizione di libertarismo quindi uno scontro uno scontro incontro un dialogo tra tra due intellettuali notti di questi giorni carlo lottieri e diego fusaro si si confronteranno su questo tema e quindi ripeto è proprio un attraversamento della dimensione economica in tutte le declinazioni esistenziali possibili sì anche carlo lottieri che appena ha nominato ha avuto occasione di intervistarlo alcuni mesi fa e sulla tematica lui della sulla libertarismo e avremo modo anche di intervistarlo prossimamente tra l'altro visto che l'hai nominato hai nominato l'intervento di demosthenes dove farò io al moderatore alberto voi vuoi ricordare per gli ascoltatori e correggimi se sbaglio previsto venerdì 16 esatto corretto venerdì 16 alla sera gaitan correggimi se sbaglio mi fosse alle 21 corretto sì alle 21 alle 21 alle 21 quindi vi aspetto assieme alle mostre nes floros al conegliano veneto venerdì 16 giugno alle 21 e senti alberto il vostro lavoro immagino non si esaurirà con questo festival immagino e perché questo è un primo è un primo passo i vostri progetti futuri quali sono bella allora questo festival è stata una sfida e c'è molto ci è piaciuta molto anche perché nel nostro percorso siamo riusciti a coinvolgere altri ragazzi e questo ci dà fiducia per il futuro vorremmo continuare su questa pista magari sviscerando anche altre tematiche come quella della filosofia e della letteratura quindi sicuramente abbiamo poi nei progetti futuri affrontare altre tematiche culturali e e comunque riuscire a rendere questo festival non solamente un evento sporadico ma pensi un evento annuale dove ritrovarsi ogni anno e fare vera cultura che come ho detto prima è smuovere quello che è il pensiero critico e far venire dubbi alle persone seminare diciamo seminare quella che è la disputatio cioè nel medioevo com'è che funzionavano come sono nate le università sono nato attraverso la disputatio che non è nient'altro che il dibattito partendo da visioni diverse ecco questo questo sarà il nostro grande obiettivo per il futuro si senti gaetan e una curiosità che mi è venuta e so che stai approfondendo la teologia politica aspetta mi ero dimenticato allora siete un gruppo di giovani alberto a 25 anni tu quanti anni hai e io non sono non sono più considerabile giovane io ne ho 39 39 quindi hai alzato la media del del gruppo ma sempre al vecchio del gruppo a il vecchio quello che abbiamo messo direttore artistico ok chiarissimo chiarissimo senti con la teologia politica mi ha messo mi ha messo in curiosità questa cosa che cos'è di cosa si tratta la teologia politica è una disciplina che sorge da una definizione che ne dà il il pensatore filosofo carl schmidt quindi è come gli addentellati che ci sono tra teologia e filosofia e come questi vanno a definire il potere il potere poi all'interno della dell'azione politica e alla cosa interessata perché durante gli studi universitari nella mia tesi o l'ambito questo te questo tema che mi ha sempre più coinvolto e adesso lavorativamente parlando ovviamente cerco di di suddividere il tempo tra il mio lavoro e questo mio interesse questa mia passione che però rimane comunque la volontà e desiderio di livello accademico visto che comunque gli studi filosofici li ho finiti e vorrei poterli approfondire domani e questo tema è molto vasto perché va a prendere diversi ambiti dalla filosofia politica a dal anche dal punto di vista giuridico quindi anche dalla filosofia del diritto dalla filosofia delle istituzioni ci sono pensatori come or you piuttosto che santi romano quindi il fondatore del pensiero giuridico italiano che possono essere messi a confronto e soprattutto nel far emergere come determinati gangli che vengono ritenuti esclusivamente di una disciplina invece abbiano delle origini o abbiano delle ripercursioni in altre ritenute lontanissime e soprattutto va il tutto a confluire nella nella visione finale diciamola con un termine un po' più specifico e scappare di quello che sarà il la dimensione sociale quindi sia una visione messianica e messianismo che può essere appunto politico o o religioso entrambi e come questi possono essere disaminati e portati a fermento certo e alberto siamo in conclusione per per partecipare al al festival invitiamo i nostri ascoltatori direi di guardare e tenersi informati sulle varie piattaforme no sui social per per essere informati basta intanto prima di tutto ricordarsi dal 16 al 18 giugno in centro conegliano a conegliano veneto come come si chiama la piazza dove si terrà si chiama piazza cima ed è la piazza centrale di conegliano nel centro storico in via 20 settembre e per tenersi aggiornati abbiamo i nostri canali social sia instagram che facebook basta cercare festival cultura liberata oppure sul nostro sito festival cultura liberata puntocom e adesso abbiamo tra l'altro fatto fatto partire un crowdfunding per su produzioni dal basso proprio per riuscire a sostenere questa questa iniziativa e vedere anche la risposta dal dal pubblico e niente noi vi aspettiamo sarà tre giorni intensi di di vera cultura ne approfitto anche per visto che siamo in chiusura per salutare tutti tutti i ragazzi che che ci stanno ci stanno dando una mano e poi in particolare vorrei ringraziare anche don roberto che è stata una figura centrale e sarà uno diciamo dei nostri relatori e ringrazio anche ringrazio anche fabio padovana che è stato uno degli imprenditori che ha più creduto in questo progetto e probabilmente se non ci fosse stato lui non non sarebbe stato possibile e vi aspettiamo calorosamente ma io ho visto ho visto appunto l'elenco dei relatori e tematiche trattate in alcune ne abbiamo un attimo accennato le i temi che verranno affrontati sono effettivamente molto molto stimolanti molto interessanti in bocca al lupo per l'evento ringrazio molto i due ideatori del festival cultura liberata grazie ad alberto gava grazie grazie saluti a ci vediamo e ci vedremo a conegliano grazie a gaitan nasato tani e grazie grazie a voi e spero di di vedervi numerosi e correre grazie a tutti voi amici ascoltatori